Ciao ragazzi, benvenuti su It's Logo Time, il canale dove andremo a parlare principalmente e ovviamente come avete inteso dal nome, della storia e dei significati che ci sono dietro ai loghi delle maggiori aziende o comunque delle maggiori squadre sportive e chi più ne ha più ne metta. Io vi aspetto tutti i giovedì alle 15, i video principali e la domenica alle 10 dove invece pubblicherò i video estratti dalle live che faccio su Twitch. Io vi aspetto, vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare tanti commenti e tanti like e a condividervi mio. Vi aspetto, ciao!